che cazzo c'entrano i limiti le leggende la filosofia la psicologia della street photography e niente e che estate fa caldo si suda qualcuno riesce a doziare qualcun altro invece riesce a dare di matto perciò seguitemi fino alla fine scoprirete che sono matto serio e non soltanto per il caldo però le mie ferie mi piace passarne con voi perciò benvenuti e bentornati amici e fenauti vi racconto una cosa non ci crederete magari o magari non ve ne frega nulla però la scorsa settimana io ero seduto in pizzeria con i miei vecchi compagni di classe del liceo è stata una sorta di reunion ai 30 anni esatti dal diploma e oltre ovviamente la gioia di rivedersi con tra quelle persone che sono stati compagni di classe ma poi nell'arco della vita mi sono accorto che sono diventate famiglia ecco inevitabilmente i nostri discorsi sono scivolati sui ricordi di cinque anni tra i banchi di scuola quindi abbiamo parlato di ricordi di aneddoti cazzate esperienze e ovviamente abbiamo parlato anche di professori e lì mi si è accesa una lampadina infatti mi sono chiesto può un maestro cambiarti la vita e quindi adesso vi chiedo di ricordarvi un nome imogeni il voi lo sapete chi è non vi preoccupate perché ve lo dirò alla fine ricordatevi però da adesso che imogeni il ha cambiato la vita di tutti quanti noi e la mia vita in particolare però me l'hanno cambiata angela carratelli che era la mia insegnante di italiano latino e greco al liceo me l'ha cambiata giosantelli il mio insegnante di musica maria pina gli annuzzi il mio editore di cartesio ti odio iperbolicamente e mi ha cambiato la vita anche anselmo de filippis e lello chiappetta che sono stati i miei mentori in fotografia ok ma mi sa che devo un po provare a stringere perché so già che sto andando lungo e siamo soltanto all'inizio del video perciò vi dico che oggi parleremo dell'effetto pigmalione oppure effetto rosenthal dell'effetto golem o voldemort dell'effetto galatea e della profezia che si auto avvera e come tutto questo può influenzare la nostra fotografia è un video perfettamente in linea con il video della settimana scorsa perché sono pazzo mica l'ho mai nascosto e giustamente voi vi starete chiedendo ma non è che per caso ti sei dato all'esoterismo no no vi voglio rassicurare e quindi allora di cosa si tratta ecco vi è mai capitato di predire che qualcosa sarebbe accaduto e poi boom questa cosa è accaduta veramente e così poi via con le frasi del tipo te l'avevo detto va sempre così me lo sentivo e lo sapevo ecco spesso non è il destino ma è proprio quella previsione che avete fatto che ha aumentato le probabilità che si avverasse questo è un fenomeno psicologico che è confermato da un mare di ricerche e di esperimenti perché quello che pensate influenza quello che fate consapevolmente o meno e spesso porta a realizzare anche quella stessa previsione ma com'è possibile funziona così allora voi tu fai una previsione no è soltanto pensando ci generi un cambiamento nel tuo comportamento che rende quella previsione già più probabile è un loop se pensi che non ce la farai allora ti comporterai di conseguenza e guarda caso non ce la farai davvero poi ti rassegni e indovina sei un mago perché non ce l'hai fatta lo sapevi già e quindi tanto vale non impegnarsi affatto ma come diceva il buon Einstein la mente è come un paracadute funziona soltanto se si apre quindi sì è meglio aprire la mente ed essere un po più ottimisti tutto questo che vi sto raccontando non è roba nuova perché già gli antichi greci ne parlavano pensate al mito di edipo di narciso e proprio al mito di pigmalione ma la scienza moderna ci ha messo poi il suo zampino con robert merton nel 1948 che ha introdotto il concetto dalla profezia che si autoavvera in sociologia e poi vent'anni più tardi robert rosenthal ha portato questo concetto in psicologia con i suoi esperimenti ed è nato proprio l'effetto pigmalione o effetto rosenthal ma mo però senza scomodare tutta quanta la leggenda di ovidio raccontandovela pensate a film come è nata una stella una poltrona per due pretty woman my fair lady oppure a romanzo come a romanzi come pinocchio di collodio frankenstein di meriscelli ecco sono tutte quante riformulazioni della leggenda di pigmalione il nome effetto pigmalione è nato viene fuori dalla commedia teatrale pigmalion di bernard show in questa storia un professore che se non sbaglio era di fonetica si era impegnato a trasformare per una scommessa una donna molto umile in una dama raffinata insegnandole i modi e i costumi dell'alta società ecco show si era ispirato proprio al mito greco di pigmalione che era quel scultore di cipro che si era innamorato di una statua di donna che aveva creato lui stesso e aveva pregato la dea afrodite di dare vita a questa statua afrodite allora che si era un po esaurita per via di queste continue sue preghiere ha esaudito il suo desiderio trasformando la statua in donna che poi divenne sua sposa questa storia ci insegna che il comportamento umano è un puzzle complesso formato da pezzi diversi e uno di questi pezzi spesso sottovalutato ma che in realtà è molto potente è l'ambiente sociale in cui ci troviamo questo ambiente ci può influenzare in modi che non immaginiamo neanche plasmandoci attraverso delle percezioni e le aspettative che gli altri hanno nei nostri confronti ed è proprio qui che entra in gioco l'effetto pigmalione hai mai notato infatti quando qualcuno crede veramente in te che tu riesci a dare il meglio di te stesso quella fiducia che ti viene trasmessa agisce come una scintilla un catalizzatore che accende tutte quante le tue capacità e ti spinge a superare tutti quanti i tuoi limiti l'effetto pigmalione si riferisce a un fenomeno semplice però che è rivoluzionario perché le aspettative di una persona possono influenzare le prestazioni degli altri quindi in parole povere quando ci aspettiamo che qualcuno riesca in un compito quella persona riuscirà in quel compito questo effetto è stato studiato in psicologia ma io voglio portarlo anche nella fotografia perché per me è stato fondamentale in tutto quello che ho fatto e se questa cosa ha funzionato con me che lo sapete non è un fatto mai mistero io sono gnocco allora funziona per tutti potete fidarvi perché questo mito ci insegna una metafora molto potente proprio come pigmalione ha plasmato la sua statua fino a riuscire a dargli vita così le nostre aspettative possono spasmare il comportamento e le prestazioni degli altri ed è importante che l'effetto pigmalione la profezia che si auto avvera anche se sono concetti strettamente collegati non solo propriamente alla stessa cosa perché la profezia che si auto avvera si riferisce a qualsiasi aspettativa ne parliamo ne ho parlato nell'altro video un'aspettativa positiva negativa e porta comportamenti che fanno sì che questa aspettativa poi diventerà realtà mentre invece l'effetto pigmalione si concentra specificatamente su aspettative positive di una persona e su come queste possono influenzare proprio le prestazioni degli altri parlando di aspettative poi c'è un altro termine un altro effetto di cui voglio parlarvi che l'effetto galatea e galatea è il nome della statua proprio costruita da pigmalione e in psicologia questo termine viene usato per descrivere l'effetto delle aspettative che abbiamo su noi stessi perché quando crediamo fermamente nelle nostre capacità tendiamo a impegnarci di più e riuscire a superare così tutti quanti i nostri limiti e raggiungere anche i nostri obiettivi quindi l'effetto pigmalione l'effetto galatea sono due facce della stessa medaglia da una parte ci sono le aspettative che gli altri hanno su di noi mentre invece dall'altra ci sono le aspettative che noi abbiamo su noi stessi ma entrambe influenzano però il nostro comportamento in maniera molto profonda l'effetto pigmalione è stato dimostrato come vi dicevo prima da rosenthal e da jacobson che erano due psicologi e l'hanno fatto nel 1968 hanno deciso di testare questa loro idea in una scuola elementare infatti all'inizio dell'anno scolastico hanno somministrato un test di intelligenza ai bambini e qui c'è stato il colpo di scena perché senza fare affidamento sui risultati dei loro test jacobson e rosenthal hanno scelto casualmente alcuni bambini e hanno informato i loro insegnanti che quei bambini erano destinati a diventare dei geni ecco alla fine dell'anno scolastico questi bambini selezionati assolutamente a caso avevano effettivamente migliorato tutti quanti in maniera notevole il loro rendimento perciò rosenthal e jacobson hanno concluso che le elevate aspettative degli insegnanti basate esclusivamente sulle informazioni infondate che avevano ricevuto avevano influenzato positivamente il rendimento dei loro studenti questo esperimento ha dimostrato chiaramente come l'effetto pigmalione può trasformare delle semplici aspettative in potenti profezie che si autoavverano le aspettative e lo abbiamo visto hanno un impatto reale sulle nostre prestazioni e anche sul nostro comportamento però attenzione perché come sempre non è tutto oro quello che luccica e quindi anche l'effetto pigmalione non è sempre positivo perché può avere qualche conseguenza negativa quando le aspettative positive degli altri ci portano a fare meglio come il caso ecco dell'insegnante con l'alunno il risultato è un miglioramento delle prestazioni e questo si verifica anche quando esercitiamo delle grandi aspettative su noi stessi perché credere nelle nostre capacità come abbiamo detto prima può spingerci a fare sempre di più e raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati ma c'è un lato scuro in questo fenomeno e viene chiamato effetto golem o effetto voldemort di harry potter quel bambino lì vuole uccidermi perciò lo combatto alla fine uno scontro muoio ecco e di nuovo sono diventato un genio questo termine golem che significa massa informe trae origine della tradizione ebraica e si riferisce a come le aspettative negative possono influenzare negativamente le prestazioni di una persona perciò se un insegnante un capo o un genitore ha delle basse aspettative nei confronti di qualcuno queste aspettative si possono tradurre in un peggioramento delle sue prestazioni e neanche in un blocco di tutte quante tutto quanto il suo potenziale quindi mentre l'effetto pigmalione mette in luce come aspettative elevate possono migliorare le prestazioni di qualcuno l'effetto golem ci mostra esattamente il contrario l'effetto pigmalione si manifesta in molti contesti iniziamo dall'educazione dei genitori alle aule scolastiche alle aziende alle relazioni personali e udite udite anche nella nostra cara e amata street photography infatti un insegnante che elogia costantemente uno studente per la sua intelligenza non soltanto rafforza l'immagine che lo studente ha di sé ma lo motiva anche a impegnarsi di più e a raggiungere il suo pieno potenziale immaginatevi un capo che si aspetta che un dipendente eccella in un determinato progetto allora in quel caso il dipendente tenderà a fornirgli molto più a lavorare meglio e a lavorare al massimo delle sue capacità e allo stesso modo un leader che ha delle grandi aspettative nei confronti del suo team della sua squadra può ispirare e motivare tutti quanti i membri del team a raggiungere obiettivi sempre più elevati e nelle relazioni di coppia se una persona crede fermamente nelle capacità e nelle qualità del partner è probabile che questo partner si senta più motivato a far crescere e a rafforzare ancora di più quella relazione così come un genitore che sprona il proprio figlio a rialzarsi insegnerà che il bambino è più forte di tutte quante le sfide della vita ecco l'effetto pigmalione ci ricorda che le nostre convinzioni e le nostre aspettative sono degli strumenti molto potenti possiamo usarli per crescere e aiutare gli altri a crescere sta a noi decidere come plasmare la realtà intorno a noi proprio come pigmalione ha plasmato la sua statua fino a darle vita l'effetto pigmalione ci insegna che le nostre convinzioni le nostre aspettative sono strumenti che possiamo decidere soltanto noi come usarli possiamo scegliere infatti di essere pigmalione plasmando una realtà positiva per noi stessi e per gli altri oppure possiamo scegliere di diventare golem lasciando che le aspettative negative distruggano dei potenziali incompresi perciò la prossima volta che vi troverete di fronte a una sfida pensate a questo a quello che vorrete ottenere e credeteci con tutto voi stessi le vostre azioni seguiranno da sé e prima che ve ne rendiate conto quella profezia si sarà avverata e a voi che piace fare tanto i maestrini di fotografia dispensando consigli più o meno tutti uguali ricordatevi però questa vostra grande responsabilità le convinzioni agiscono come istruzioni ipnotiche per la nostra mente per il nostro corpo noi siamo guidati da queste convinzioni e siamo guidati quasi senza rendercene conto ed ecco perché è cruciale scegliere con attenzione le convinzioni che ci guidano invece che lasciarci scegliere da queste convinzioni alcune convinzioni che ci portiamo dentro possono essere un vero e proprio veleno se ad esempio credo che avrò difficoltà nelle mie relazioni questo diventerà la mia realtà e se credo di non essere capace di essere un artista non lo diventerò mai perché non sono le esperienze a generare le convinzioni sono le nostre convinzioni che generano le nostre esperienze e spesso queste convinzioni ci vengono trasmesse dalle persone che ci circondano e da quelle persone che noi abbiamo eletto e scelto come insegnanti come maestri come modelli pensate a quei bambini della scuola americana hanno fatto l'esperienza di insegnanti che credevano in loro mentre invece prima non lo faceva nessuno quando ero piccolo ricordano i momenti in cui proprio non riuscivo a parlare per via della mia balbuzia e lo sguardo di mia madre mi trasmetteva un messaggio molto preciso e cioè ce la farai questo problema lo risolverai e così è stato perché se c'è poi oggi una convinzione che ho radicato profondamente in me e che non esiste un problema che non può essere risolto perché per quanto grande possa sembrare l'inizio ecco credo che siamo molto più intelligenti più capaci più forti di queste stupide convinzioni negative che spesso ci vengono imposte dai sistemi di potere e i sistemi di potere non sono una magia sono dei meccanismi che spesso in maniera per carità a volte anche involontaria ci iniettano però delle convinzioni che ci indeboliscono e tutto questo avviene in modo così sudolo che spesso nemmeno ce ne accorgiamo e se poi ecco dovesse dubitare di quello che vi sto raccontando pensate a steve jobs che da ragazzino era un teppista che addirittura metteva le miccette i petardi sotto la cattedra finché non ha incontrato imogeni illa una maestra che con la sua fiducia ha trasformato un ragazzino difficile in uno degli innovatori più influenti del nostro mondo ogni giorno anche voi avete la possibilità di essere quella maestra per qualcuno oppure di scegliere quella maestra per voi stessi e io vi dico che soltanto merito di giosantelli che ha creduto in me come musicista se sono stato capace di incidere tre dischi e calcare qualche palco importante ricevere un contratto discografico ad esprimermi con la mia chitarra ed è soltanto stato merito di maria pina gli annuzzi che mi ha considerato scrittore se il mio libro oggi continua a continuare a vendere ed è soltanto merito di anselmo de filippis lello chiappetta se la mia macchina fotografica non è più un oggetto da hipster ma si è trasformata nella mia penna non lasciamo che le aspettative negative quelle che diminuiscono il nostro potenziale anche quello degli altri abbiano la meglio siate pigmalione per voi stessi e per chi vi sta accanto trasformate ogni palo in un gol e ogni ostacolo in un trampolino di lancio ogni giorno voi avete il potere di credere e di creare quindi amici miei scegliete di credere non sperate dovete credere perché credere è l'atto più audace che possiate fare è l'atto di amore più grande che potete rivolgere a voi stessi e agli altri creare e vivere e voi siete pronti a fare la differenza bye grazie grazie